Nella quarta via viene spesso spiegato che nelle condizioni di vita ordinaria noi non ci ricordiamo di noi stessi. Noi non ci ricordiamo, vale a dire non abbiamo la sensazione di noi stessi, non siamo coscienti di noi stessi al momento della percezione di un'emozione, di un pensiero oppure di un'azione. Se una persona comprende questo e tenta di ricordarsi di sé, ogni impressione che riceverà durante questo ricordarsi di sé sarà in un certo modo doppia. Per esempio, in uno stato di coscienza ordinaria, io guardo semplicemente la strada. Ma se mi ricordo di me stessa, non guardo semplicemente la strada. Sento che io la guardo. Come se dicessi a me stessa, io guardo. Ed in luogo di un'impressione della strada, ho due impressioni. Una della strada e l'altra di me stessa che guardo la strada. Questa seconda impressione, prodotta dal fatto del mio ricordarmi di me, è lo shock addizionale all'interno dell'enneagramma. Per Gurdjieff, il fatto importante è che portare a termine qualsiasi processo, descritto appunto da un enneagramma completo, devono necessariamente esserci degli urti, degli interventi esterni. Però, come sempre, prima di addentrarci, un saluto a tutti. Per chi ci segue da tempo, bentornati al podcast dell'Associazione Perank, associazione culturale senza scopo di lucro, nata per la divulgazione dei principi e degli insegnamenti delle più antiche tradizioni iniziatiche. Per chi ascolta questo podcast per la prima volta, invece, benvenuti. Questo episodio fa parte della playlist dedicata alla Quarta Via e puoi trovare l'intero testo sul link indicato in descrizione, insieme a tutta la bibliografia di riferimento. Come sempre, ti consigliamo di concederti un momento di tranquillità e di prendere ordinatamente qualche appunto se vuoi studiare in modo funzionale questi contenuti. Meglio ancora se riuscirai a studiare insieme a qualcuno oppure in coppia. Infine, iscriviti al canale per non perderti tutti i nostri aggiornamenti settimanali sugli insegnamenti tradizionali, che ti ricordiamo che sono e saranno sempre gratuiti. Dunque, teniamoci forte. Shock in arrivo. Per lo sviluppo e l'ottenimento consapevole di qualsiasi risultato, ad un certo punto occorre infatti quello che Gurdjieff ha definito nell'enneagramma secondo shock cosciente, dove il primo è l'ingresso dell'aria, ma lo vedremo in una puntata dedicata proprio all'enneagramma originale. La natura di questo sforzo richiede uno studio speciale. Se consideriamo l'andamento generale della nostra macchina umana, questo sforzo può essere messo in rapporto con la vita emozionale, e cioè con uno speciale tipo di influenza sulle nostre emozioni. La pratica della non espressione delle emozioni sgradevoli, della non identificazione, della non considerazione interiore, è proprio la preparazione a questo secondo sforzo. Perché sforzo? Beh, se hai mai provato a passare consapevolmente tre giorni senza arrabbiarti, giudicare spravente o parlare male degli altri, hai presente di cosa si tratta e perché è effettivamente un enorme sforzo. Da principio di un lavoro su noi stessi, consapevole naturalmente, cominciamo a scorgere tutte le nostre contraddizioni interiori. Di solito non possiamo vederle perché ci troviamo sempre o in questo o in quel piccolo compartimento di noi stessi, mentre è la coscienza che può vedere dall'alto e mostrarci che qui abbiamo sentito una cosa, là un'altra cosa, di nuovo qui una cosa completamente diversa, tutte sullo stesso soggetto. Se per esempio prendiamo il lavoro interiore, dobbiamo renderci conto che in un momento possiamo sentire una cosa a riguardo ad esso. Il lavoro interiore è quello che fa per me e quello che voglio nella vita. In un altro momento possiamo sentire una cosa completamente diversa. Forse non mi interessa, forse preferisco fare qualche cos'altro, insomma forse cambio completamente strada. E di nuovo in un terzo momento un'altra cosa differente ancora. Ad esempio, mi piacerebbe tanto farlo ma forse non sono in grado, forse non ho forza, forse non ho energia e via dicendo. Ma noi non sentiamo mai tutte queste cose insieme. Se potessimo sentire contemporaneamente tutto quello che abbiamo sempre sentito riguardo al lavoro, ne avremmo un enorme shock e questo sarebbe un momento di coscienza. Tutta la nostra vita, tutte le nostre abituali maniere di pensare hanno soltanto uno scopo, evitare shock, sensazioni sgradevoli, spiacevoli percezioni riguardanti noi stessi. E questa però è la cosa principale che ci mantiene addormentati, perché al fine di svegliarci non dobbiamo avere paura, dobbiamo essere tanto coraggiosi da vedere proprio queste contraddizioni. Un buono shock d'altronde produce rapidamente energia. Gli shock possono essere di tre tipi. Qualcun altro ce lo può dare, ce lo possiamo dare da noi stessi, oppure può capitare accidentalmente. Nessun'altra cosa può creare rapidamente energia come un buono shock, che ci fa ricordare noi stessi e farci ricordare lo shock stesso. Questo shock può essere talmente buono che saremo incapaci di dimenticarlo per qualche tempo. Questo ci renderà più emozionali e il centro emozionale produrrà energia. Su questo consigliamo di riprendere l'episodio dedicato ai centri nell'essere umano. In tutto ciò, gli shock accidentali non contano. Le cose accadono, lo shock accidentale accade. Quando parliamo di dare shock o darsi shock, si parla di shock consci, consapevoli. Noi dobbiamo comprendere come accadono le cose. Cominciamo a fare qualcosa, poi arriviamo a un intervallo senza nemmeno renderci conto dell'esistenza degli intervalli e conoscere le loro possibilità. Questa è la nostra situazione. Prima di conseguire uno scopo, noi dobbiamo comprendere che questo conseguimento è ancora lontano da noi e che ci separano dalla sua realizzazione due intervalli, i due intervalli presenti nell'enneagramma. Questi intervalli, per essere superati, necessitano di una forte dose di energia. Ed è per questo che se potessimo produrre sufficienti shock necessari per il conseguimento del nostro obiettivo e che siano abbastanza forti, non ci sarebbe praticamente nulla che non potremmo raggiungere. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno sono gli shock, ma questi non possiamo produrli da soli. Inoltre, quando l'uomo è profondamente addormentato, un solo shock non basta. È necessario un lungo periodo di shock incessanti, shock che possono solamente arrivare da fuori. Bisogna che quest'uomo si metta in condizioni tali che qualcun altro, o delle condizioni esteriori, si presentino per impartirgli questi shock e ripeterli finché sarà necessario per il suo risveglio. Se uno si rende conto di essere addormentato, deve in fondo studiare mezzi e metodi per svegliarsi, ma questo deve cessare di essere soltanto parole. Deve diventare un fatto basato sull'osservazione. Solo allora sarà possibile parlare di ciò con maggiore precisione e maggiore praticità. Appena uno si rende conto di essersi addormentato, in quel momento si è già semidestato, ma questo non dura a lungo. Nel momento successivo qualcosa comincia a cambiare nella sua testa ed egli è trascinato di nuovo nel sonno. Questa è la ragione per cui non ci si può svegliare da soli. Questa è la ragione per cui sono necessari metodi elaborati, e cioè bisogna essere scossi ripetutamente. Non dobbiamo pensare a queste scosse come a degli shock traumatici, naturalmente. Cerchiamo insomma di seguire gli esempi della quarta via. E chi è che scuote? E questo è veramente il problema, perché non ci si può affidare a degli scossoni casuali. Diciamo che un certo numero di persone che vuole destarsi si deve mettere d'accordo che quando uno di loro è addormentato qualcun altro deve essere sveglio e deve dare gli scossoni. Ma fare un accordo del genere richiede sincerità. Quelle persone devono realmente volere svegliarsi e non devono arrabbiarsi o offendersi quando ricevono gli scossoni. Dallo studio dell'enneagramma comprendiamo che le ottave possono svilupparsi in una maniera conseguente e continua nella direzione desiderata se gli shock addizionali intervengono al momento necessario, ossia quando si produce un rallentamento delle vibrazioni. Se gli shock addizionali non intervengono al momento necessario, le ottave cambiano la loro direzione. Naturalmente è fuori questione sperare che gli shock addizionali arrivino da soli all'esterno e al momento necessario. Resta quindi all'essere umano la scelta seguente o trovare alle proprie attività una direzione che corrisponda alla linea meccanica degli avvenimenti del momento, quindi in altri termini andare dove soffia il vento, nuotare con la corrente, oppure rassegnarsi all'idea dell'insuccesso di tutto ciò che egli intraprende. Ma c'è un'altra soluzione. L'uomo può imparare a riconoscere i momenti degli intervalli in tutte le linee della sua attività e a creare gli shock addizionali. In altre parole può imparare ad applicare alle proprie attività il metodo di cui si servono le forze cosmiche nel creare degli shock addizionali ogni volta che essi sono necessari. La possibilità di shock addizionali artificiali, vale a dire creati appositamente, dà un senso pratico allo studio della legge dell'ottava e rende questo studio obbligatorio e necessario per un uomo che voglia uscire dal ruolo di spettatore passivo di ciò che accade a lui e attorno a lui. L'essere umano meccanico non può fare niente. A lui come attorno a lui tutto accade. Per riuscire realmente a fare è necessario conoscere la legge dell'ottava, conoscere i momenti degli intervalli ed essere capaci di creare gli shock addizionali necessari. Come scrisse Uspensky, tutto questo si può imparare soltanto in una scuola, vale a dire in una scuola organizzata su basi giuste e che segua tutte le tradizioni esoteriche. Senza l'aiuto di una scuola, un uomo da solo non potrà mai comprendere la legge dell'ottava, il posto degli intervalli e l'ordine secondo il quale gli shock devono essere creati. Non lo può capire, poiché certe condizioni sono indispensabili per arrivare a questa comprensione e queste condizioni non possono essere create che in una scuola creata e sa stessa su questi principi. Fermiamoci qui per il momento. Ti ricordiamo che tutti gli episodi della categoria Quarta via si trovano nella playlist ad essa dedicata. Sul nostro blog troverai invece articoli e materiali di approfondimento e i nostri contatti. Se ancora non ci conosci, sappi che pubblichiamo con regolarità contenuti sulle antiche tradizioni sul nostro blog, su YouTube e su Spotify e che tutta la nostra divulgazione e tutti i nostri eventi sono e saranno sempre gratuiti. Se questo episodio ti è stato utile, ci farebbe piacere saperlo attraverso i like o i commenti e se pensi possa essere utile anche ad altri, aiutaci a diffonderlo condividendolo. A presto! Grazie a tutti!